Ma che sei scema? Io e perché? Sei incinta e fumi? Ma lo sai che il fumo in gravidanza intossica tuo figlio? Può provocare ritardi nello sviluppo mentale e polmonare e perfino aborti spontanei? Giovanotto? Io? Ma non hai sentito quello che ho detto? Non si fuma accanto a una donna incinta? Chi fuma è scemo? Non me lo fate ripetere più! Adesso prendi carta, vena inchiostra e calamaro e scrivi duemila volte Il fumo fa male con due M perché fa molto male Campagna a cura del Ministero della Salute e Presidenza del Consiglio dei Ministri Info su salute.com.it